buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno del leone sia per coppie che per single quindi cominceremo dalle energie generali poi andremo a vedere appunto come vanno le cose nella vita di chi è in coppia e di chi è single ma se volete invece una lettura privata per capire un po meglio la vostra situazione personale io vi invito come sempre a inviare una email e parlare con la mia assistente o comunque far prenotare a lei o se volete fare da soli andate sul sito internet e prenotate dal calendario giorno e ora che preferite quindi iniziamo e vediamo un po che cosa accadrà questo mese ai leoni sette di coppie come energia generale un'energia molto campata per aria questa è una di quelle carte che io una di quelle carte che hanno un una valenza particolare a livello del segno cioè è una carta di coppe quindi è una carta che parla dell'elemento acqua dell'elemento emozioni ma allo stesso tempo guardate quanta aria c'è in questa carta studenti di primo livello guardate che questa carta come disegnata abbiamo delle coppe che sono fra le nuvole quindi ci fa intuitivamente pensare ad avere la testa fra le nuvole ad avere tanti pensieri o tante cose per la testa ma allo stesso tempo questa carta ci dà un altro indizio e cioè ci dice che ciò che è per aria sono le nostre emozioni i nostri sentimenti quindi in realtà questa è una carta di coppe ma è una carta che pur parlando di coppe contiene tantissimo l'elemento aria ora in che modo quindi noi passeremo questo mese pensando pensando riflettendo cercando di capire che cosa dobbiamo fare capire cosa vogliamo e come averlo come ottenerlo probabilmente abbiamo diverse opzioni probabilmente abbiamo in mente varie strade possibili da percorrere ma alla fine sappiamo che solo una sarà quella giusta che non possiamo comunque tenere il piede in più scarpe o non necessariamente ragazzi nel senso che abbiamo più persone no non intendevo quello in questo caso intendo proprio che il fatto che se vogliamo comportarci in un certo determinato modo non possiamo contemporaneamente comportarci anche in altri modi dobbiamo scegliere dobbiamo decidere cosa come inoltre il sette di coppe potrebbe anche parlare non solamente di diverse opzioni che abbiamo a disposizione ma a volte purtroppo parla anche di idealizzazione non credo che sia questo il caso per lo meno non per tutti non per molti no ma per pochi di voi pochissimi di voi c'è una questione di idealizzazione e l'idealizzazione significa che noi vediamo in qualcuno in qualcosa in una persona in una situazione qualcosa che non c'è noi immaginiamo che quella persona quella situazione sia o sarà in un certo modo e non è vero lo abbiamo solamente immaginato oppure noi vediamo qualcuno e vediamo solo il meglio di quel qualcuno o di quel qualcosa ecco questa è idealizzazione dobbiamo stare attenti questo mese a non idealizzare niente nessuno ma piuttosto cercare di vedere le cose per come davvero sono quindi un po più di concretezza un po più di materialità nel nostro osservare guardiamo le cose per come sono se abbiamo diverse opzioni guardiamole una per una per quello che sono dobbiamo avere ben chiaro quali sono queste opzioni per poter scegliere la migliore e alla fine probabilmente quella che sceglieremo sarà quella che si auto sceglierà cioè se voi ci avete fatto caso molte volte noi non sappiamo cosa fare e ci affidiamo all'universo come fanno gli induisti quando si affidano a ganesh affidano i loro problemi a ganesh il dio con la testa d'elefante quella è una divinità che appunto tra virgolette spiana la strada risolve i problemi li toglie dal cammino ed è la divinità che viene contattata a cui vengono rivolte preghiere e vari mantra proprio quando abbiamo un problema e non sapendo come risolverlo chiediamo a ganesh di togliere dal nostro cammino gli ostacoli e di spianarci la strada e quindi di aiutarci a risolvere i nostri problemi tutto ciò che ganesha chiede in cambio è di non intervenire cioè lui ti dice questo io ti risolvo il problema ok ma tu mi devi fare il favore che non ci devi mettere mano perché se ci metti mano mentre ci sto lavorando io mandi tutto all'aria insomma questo è un po il dialogo personale privato che c'è fra l'interlocutore e la divinità in questo caso io credo che io credo che si tratti comunque di si tratta di lasciare appunto che le cose accadano senza necessariamente intervenire perché ciò che gli induisti proiettano in questa divinità in ganesh in realtà non è altro che uno dei tanti aspetti dell'universo stesso e cioè è una delle leggi che vengono seguite dall'universo una legge universale una legge fisica o metafisica e cioè se tu lasci che le cose vadano come devono andare senza interferire e senza intervenire per modificarne il corso le cose vanno esattamente nel modo migliore per te sul lungo termine questa è una legge sul lungo termine le cose vanno sempre a posto per te se tu non interferisci con le tue idee con le tue convinzioni con le tue eccetera eccetera quindi il senso è un po questo probabilmente sarà la cosa giusta a scegliere noi e non noi a scegliere la cosa giusta perché questo mino comunque sta lì a guardare non è che sta agendo più di tanto il ciò significa che l'azione questo mese sarà veramente poca salute grazie prego e invece quello che verrà fatto sarà piuttosto starli a guardare starli ad aspettare che una delle diverse opzioni diventi quella giusta o cominci a apparire chiaramente come quella giusta nel caso di chi è single ovviamente potrebbero anche esserci diverse opzioni fra cui scegliere diverse persone fra cui scegliere ma più che altro qui stiamo parlando di opzioni su cosa fare opzioni su come andare avanti quindi ecco che sarà un mese secondo me con poca azione ma molta riflessione e un lavoro soprattutto emotivo interiore ora andiamo a vedere che cosa accade nelle due colonne e quale delle due colonne è la vostra o quale è dell'altra persona lo capirete man mano che leggerò chi sta su questa colonna di sinistra si sente come un fante di bastoni prova la luna desidera due di coppe si comporta come un re di coppe ciò che non dice il due di denari dall'altro lato abbiamo un tre di denari che prova un fante di spade che desidera una regina di bastoni che si comporta come l'imperatore ciò che non dice il cinque di bastoni ma vorrei anche girare queste vorrei anche girare queste allora sembra che cominciamo da chi è in coppia intanto cominciamo subito da chi è in coppia sembra che questo non sapere cosa fare derivi da una sorta di conflitto che non è visibile ma c'è quindi è un conflitto che non si vede fuori ma è più interiore per entrambe le persone questa persona perché nella posizione dei segreti ha un due di denari quindi il segreto è che sta cercando di tenere in piedi un po tutto ma non è proprio comoda comoda in questa posizione nel tenere in piedi un po tutto e probabilmente questo tenere in piedi un po tutto dovrà portare a breve o prima o poi a una scelta su cosa davvero continuare a tenere in piedi cosa no dall'altro lato c'è un cinque di bastoni nella posizione dei segreti quindi c'è un conflitto interiore che vuole uscire con il fante di spade quindi è un conflitto interiore un qualcosa che rode dentro e che vorrebbe uscire vorrebbe essere detto e vorrebbe essere espresso e che non ancora non è ancora stato espresso non ancora non ancora dunque la persona che sta da questo lato non sa cosa prova fra i due partner in questo momento potrebbe esserci confusione proprio a livello dei sentimenti da parte di entrambi in particolare uno dei due non sa cosa prova perché ha un'idea di amore romantico di amore utopico di amore ideale che non viene corrisposta dall'altra persona cioè se io guardo i film di walt disney e decido che l'amore deve essere quello è ovvio che poi col mio partner non è quello non lo sarà mai c'è il principe la principessa anche perché se voi guardate le vite vere dei principi e delle principesse nel mondo io non auguro a nessuno di fare quella vita niente nessun nessun grado di potere o nessun livello economico può valere il la bellezza della normalità che abbiamo noi nelle nostre vite intesa come libertà libertà voi immaginate la regina elisabetta che non è nemmeno libera di andare a sedersi a un bar senza la scorta a bere un tè con un'amica tra l'altro probabilmente non può perché per le regole della casa reale non può nemmeno andare in certi posti o non può nemmeno frequentare certe persone o non può vestirsi in un certo modo quando ci va cioè stessa cosa vale se siete un attore famoso un bros willis non può andare in giro al bar da solo perché lo violentano se lo vedono io perlomeno lo violenterei se lo vedessi per strada qui quindi non è proprio la libertà ragazzi la il senso di libertà questa persona qui comunque con questa utopizzazione dell'amore con questo desiderare che l'altro sia il partner ideale cosa che obiettivamente non è non sa più quello che prova quindi ecco che un po questi sentimenti che magari una volta c'erano ed erano più forti si sono un po affievoliti si sono spenti e adesso la luna parla proprio di questo una luce che si spegne il buio dove sono questi sentimenti non si vedono più sono affievoliti non sono più la luce di un sole che brilla e illumina tutto sono diventati una luce della luce della luna una luce riflessa che illumina poco che fa vedere poco e che tira fuori cose più profonde perché con la luna noi tiriamo fuori cose molto profonde dall'interno di noi quindi cose che magari non si vedevano con la luce del sole invece si vedono con la luna e quindi questa persona non sa cosa prova mentre invece l'altra sa cosa prova vorrebbe dirgliene quattro quindi quest'altra sta solo aspettando l'occasione giusta per dire come mai è in conflitto per dire cosa c'è che non va cosa c'è che non va in realtà fra i due partner io credo che per la maggior parte di voi non accadrà nulla di tanto di che questo mese anzi credo che per chi è in coppia sarà un mese abbastanza tranquillo un mese più di osservazione di riflessione che di azione però un mese che va usato bene andrebbe usato bene perché noi non possiamo starli fermi a riflettere a decidere che cosa vogliamo fare se poi non abbiamo mai il coraggio di esprimerci e non abbiamo mai il coraggio di prendere delle decisioni attive in merito quindi ecco che che cosa vogliono entrambi i partner entrambi i partner vorrebbero la tranquillità sicuramente questa persona vuole proprio l'amore perché questa persona si sente come un re di coppe si sta comportando come un re di coppe questa persona sta mostrando o perlomeno dal suo punto di vista sta cercando di mostrare maturità nel modo in cui si approccia al proprio partner quindi pensa di meritare il due di coppe l'amore se io mi comporto da re e sono un re io merito una regina quindi regina fanno poi un due di coppe una condivisione una sintonia perfetta invece non è così tanto che appunto questa persona ha la sensazione di doversi prendere cura dell'altra la sensazione di doversi prendere cura della relazione di dover fare di più di quello che gli toccherebbe ed ecco che questa persona assume un po' l'immagine la figura di chi è più maturo e sostiene l'altro non è così però non è così questo vi posso dire che è solo una sensazione una percezione che deriva dall'essere da questo lato e da questo punto di vista perché dall'altro punto di vista invece c'è una persona comunque che c'è una persona che non è non si tratta tanto di immaturità magari sì per carità per certi sì per qualcuno è proprio una immaturità emotiva ma più che altro questa persona secondo me è confusa su quello che vuole su quello che desidera perché se sta continuando a portare avanti una relazione ma nel frattempo potrebbe avere dei desideri per qualcun altro potrebbe avere dei dubbi potrebbe avere il dubbio che magari è arrivato il momento anche di conoscere altre persone o potrebbe avere il dubbio che che forse c'è qualcun altro anche di interessante io vi dico questo non è per tutti i leone ovviamente però per qualcuno di voi questa persona che sta in questa colonna ha un altro interesse una persona tra l'altro di cui voi non siete a conoscenza perché non la conoscete probabilmente la conoscenza avverrà proprio questo mese ma ripeto non è detto che sia così per tutti e soprattutto non è detto che questa conoscenza diventi un pericolo per la coppia può semplicemente essere uno spunto di riflessione quindi che so io ho il mio partner però conosco una persona conosco un uomo interessante e inizio a riflettere scusate inizio a riflettere perché mi domando perché mi sento attratta da un altro uomo se ho già un partner ecco questi sono motivi di riflessione che sono molto utili nelle coppie quindi ecco che potrebbe per qualcuno ripeto entrare in gioco un personaggio sconosciuto nuovo e ma non è detto che questo sia pericoloso e comunque non è per tutti perché per molti invece questa persona non vuole qualcun altro vorrebbe che questa persona fosse più forte più decisa più che avesse più carisma che avesse più carattere ed ecco che se questo non c'è perché invece da questa parte c'è un po di debolezza un po di indecisione questa persona non si sente appagata io non so eh non so non voglio non voglio buttarla lì troppo semplice però per molti per qualcuno scusatemi per qualcuno di voi io vedo che questa persona si sta comportando in modo molto egoista perché sta pensando solo a se stessa comunque e non e sta cercando di tenere tutto sotto controllo quindi sta cercando di tenere tutto sotto controllo proprio per una questione sua personale per non perdere di vista quello che sta succedendo per non perdere di vista il partner per non fargli capire certe cose per non fargli vedere certe cose solo pochissimi di voi si trovano qui in una condizione di controllo per necessità reale solo pochissimi di voi cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maio iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com e questa persona infatti sembra che stia facendo tutto da sola cioè molte cose le fa da sola molte cose le fa da sola ora però io ripeto per chi è in parte per chi è in coppia secondo me qui la soluzione più semplice è vabbè per quelli di voi che stanno bene nulla di che si tratta solo di sciogliere un po questi conflitti e di chiarirsi le idee e di capire davvero che cosa provate l'uno per l'altro perché è normale ci sono dei periodi in cui capita di avere dei dubbi l'importante che siano solo dei periodi l'importante che non durino in eterno questi dubbi perché allora allora lì vuol dire che qualcosa è finito per invece per le coppie che hanno seriamente dei problemi e delle difficoltà sì è arrivato il momento di scegliere non credo che sceglierete rapidamente credo che prenderete tanto tempo per farlo ma è arrivato il momento di scegliere su come portare avanti la relazione in base appunto alle emozioni che davvero provate l'uno per l'altro perché se siete nel dubbio se siete nel dubbio se pensate che forse questa non è la persona giusta per voi allora lì secondo me ci sono due cose da fare la prima è mettere alla prova la relazione non metterla alla prova in senso negativo del tipo faccio qualcosa e vedo come reagisci tu no metterla alla prova significa aprirsi aprirsi il più possibile dare il meglio di sé e vedere come l'altro reagisce dando il meglio non dando il peggio mettendolo alla prova in negativo quella è l'unica cosa da fare ora vediamo però per chi è single che cosa sta accadendo perché per chi è single io credo che questo è un mese nel quale potremo conoscere diverse persone o comunque potremo avere diverse opzioni a nostra disposizione e potremo anche non essere come dire pronti per metterci in gioco infatti quando si hanno dei dubbi in questi casi vuol dire semplicemente che non si è pronti che la nostra anima non ha ancora trovato l'equilibrio con se stessa per poter condividere un equilibrio con un'altra persona e quindi ecco che è una fase più preparatoria più che una fase di condivisione con altri però comunque ragazzi guardatevi intorno perché potrebbero esserci situazioni interessanti potreste conoscere magari persone interessanti o semplicemente potreste trovarvi di fronte alla domanda cosa faccio per conoscere gente quali opzioni ho per conoscere gente e quindi ecco la voglia di mettersi anche in gioco di mettersi in moto ora chi sta sulla sinistra è qualcuno che desidera tanto l'amore desidera tanto la relazione e tra l'altro probabilmente potrebbe anche trattarsi di qualcuno che è single da tanto e quindi ormai si sente anche come dire il senso dell'invecchiamento il senso del tempo che passa potrebbe questa persona pensare che appunto il tempo sta passando troppo velocemente e se non quaglia qualcosa se non si conclude qualcosa non è bello rimanere così anche perché questa persona pensa proprio di essere pronta perché si si sente si comporta come un re di coppe perché desidera il due di coppe desidera l'amore in realtà però non prova dei sentimenti forti per nessuno perché anche se c'è stato il dubbio che ci fossero dei sentimenti forti per qualcuno non c'è non adesso invece è proprio diventato un dubbio che cosa prova questa persona non c'è più il i sentimenti non sono chiari non sono per niente chiari è chiaro solo il desiderio di avere qualcuno da amare di avere qualcuno che ci ami ma non è chiaro assolutamente che cosa proviamo per le persone che conosciamo anzi anzi potrebbe proprio essere un periodo nel quale non abbiamo non sentiamo quella forte quel forte trascinamento quella forte passione quel forte interesse non lo sentiamo per nessuno e quindi stiamo lì a domandarci ma arriva o non arriva la persona giusta per noi che cosa stiamo facendo dall'altro lato vedo comunque che in effetti non c'è terreno fertile quelli di voi che sono singole che hanno chiuso qualcosa da poco o che hanno comunque avuto l'occasione magari di flertare con qualcuno ma non è andata bene si stanno trovando in una condizione nella quale questa persona qui è arrabbiata questa persona qui è offesa non ha voglia di non c'è l'energia dell'amore l'energia della creazione di qualcosa ma semmai questa persona è molto scoraggiata e pensa che non vuole proprio saperne non vuole correre rischi non vuole mettersi in gioco non no questa persona non se la sente proprio anzi questa persona è proprio rigida sulla sua posizione e se qualcuno dovesse avvicinarsi se voi o questa persona dovesse avvicinarsi no non sarebbe aperta non sarebbe assolutamente aperta e pronta anzi proprio vuole stare da sola quindi vi devo dare diverse opzioni per chi è single rigapilottolando alcuni di voi sono single da tantissimo tempo e sembra che ormai ci abbiano proprio perso le speranze perché non vedono proprio all'orizzonte qualcosa di che valga davvero la pena quindi sì magari ci sono le opzioni fuori ma non ci interessano non ci piacciono non ce ne facciamo niente nessuno ha fatto scoccare questa scintilla nessuno colpisce la nostra attenzione e quindi noi siamo pronti maturi capaci di amare ma non possiamo non c'è nessuno con cui farlo questo significa ragazzi se siete in questa condizione che in realtà non siete pronti questo è un discorso che faccio benissimo nel videocorso di magia d'amore noi pensiamo di essere pronti perché desideriamo l'amore ma se non arriva è perché delle parti di noi a livello subconscio ci bloccano e ci autosabotano nell'attirare le persone l'energia funziona così noi attiriamo energeticamente qualcuno quindi se non stiamo attirando nessuno è perché noi stessi dentro di noi abbiamo delle barriere bisogna trovare queste barriere scioglierle trovate tutto nel videocorso di magia d'amore telepsichia quindi una opzione è questa la seconda opzione per quelli di voi che invece hanno ultimamente avuto a che fare con qualcuno hanno avuto un intrallazzo ma questo o una relazione ma non è andata bene quindi adesso siete di nuovo singolo comunque non avete concluso nulla in questo caso sappiate che una delle due persone è arrabbiata e non darebbe mai un'opportunità all'altra perlomeno non adesso non darebbe un'opportunità e non e vuole stare da sola vuole fare da sola ora ora io credo che io credo che la maggior per la maggior parte di voi single il vostro futuro partner non è qualcuno che conoscete ma si tratta di qualcuno che ancora non conoscete e questa persona entrerà nella vostra vita quando avrete appunto sciolto quel tipo di barriere interne che poi sono delle paure detto in poche parole si tratta di paure su a livello subconscio a livello inconscio quindi fino a quando sia voi che quell'altra persona che è destinata a voi non sarete pronti e non avrete superato queste paure poi nell'altra persona mi sembra anche molto evidente non può avvenire l'incontro quindi c'è qualcuno nell'aria per voi assolutamente sì ma non credo che ma non credo che questa cosa si evolverà questo mese assolutamente o voi iniziate a lavorare su voi stessi e sullo scioglimento di questi blocchi emotivi oppure ci oppure servirà ancora del tempo ora però andiamo a vedere qual è l'incrocio fra il segno del leone e i 12 segni dello zodiaco quindi prendiamo le nostre cartine e ragazzi se volete diventare miei studenti io vi invito a inviare un messaggio whatsapp al 338 8191267 senza nessun impegno vi faccio fare quattro chiacchiere con la mia collaboratrice che vi spiegherà quali sono le opzioni di rateizzazione o se vi iscrivete a più di un corso le scontistiche attualmente disponibili quindi iniziamo ok ok allora cominciamo con il segno della riete quindi chi vi vogliono a che fare con una riete dovete stare attenti alle amicizie coinvolte e vi dico anche un'altra cosa potrebbe trattarsi per qualcuno di voi di amicizie di questa persona che voi non conoscete solo per qualcuno toro è il toro prova prova dei sentimenti però non li esprime sono più come una roba segreta che non viene buttata fuori il gemelli ha bisogno di tempo per capire e per decidere con il cancro sappiate che alcune promesse non verranno mantenute leone con leone c'è distacco c'è una mancanza di interesse leone con vergine no vabbè sembra che la vergine vi stia ignorando la bilancia attenti con la bilancia perché o questa persona potrebbe o usarvi o comunque potrebbero crearsi delle situazioni in cui vi sentireste poi voi usati anche se l'altra persona non lo fa apposta con lo scorpione silenzio con lo scorpione c'è silenzio non si sta proprio muovendo nulla sagittario altre persone coinvolte potrebbero creare ostacoli con il capricorno le cose saranno più chiare fra circa un mesetto quindi dovete avere un po di pazienza se invece avete a che fare con un acquario il consiglio è quello di lasciarvi andare di fidarvi di più e infine il pesci non riesce a lasciarvi andare nonostante tutto quello che è accaduto il pesciolino sta ancora lì emotivamente ad aspettare vediamo adesso gli angeli che cosa hanno da aggiungere ok conoscersi se svelate l'uno all'altra il vostro seppio nascosto rafforzate il vostro legame e si tratta appunto di aprirsi si tratta di tirare fuori delle cose delle parti di noi che possono non solo fare non solo creare un'unione più profonda ma anche far capire all'altro che può fidarsi più noi ci apriamo più noi non abbiamo paura di far vedere le nostre debolezze più automaticamente anche gli altri tendono ad avvicinarsi a noi e anche gli altri tendono ad aprirsi ovvio che non sempre si può fare bisogna stare attenti a chi abbiamo di fronte perché mettere in luce le debolezze a volte può essere un'arma a doppio taglio però voglio dire per quelli di voi che hanno questo genere di paura vi dirò invece qual è un'altra opzione alternativa per i più coraggiosi per risolvere questo genere di problematiche i più coraggiosi a volte quando faccio i lavori di coaching quando faccio i percorsi di crescita personale dico proprio questo tu hai due opzioni in questo momento la prima opzione è lanciarti e fare il kamikaze come la carta del matto e ti lanci ti apri completamente senza paura del vuoto e senza paura del futuro e se poi questa persona userà contro di te le tue debolezze bene prima lo sai e meglio è prima lo scopri e prima sai con chi hai a che fare ma se invece tu ti apri fai il kamikaze e va bene perché questa persona anziché usare le tue debolezze contro di te le accoglie lì si crea un'intimità incredibile lì si creano davvero quei rapporti talmente tanto profondi che poi difficile romperli quindi è un rischio sicuramente un rischio e solo per i più coraggiosi ovviamente va bene la tecnica del kamikaze ma vi posso garantire che è una tecnica per lo meno che evita lunghi periodi lunghi strascichi lunghe cose di oddio non mi fido oddio se mi apro oddio se faccio questo oddio se dico quello insomma ragazzi se la persona giusta si capisce non c'è motivo di trascinarla e di far finta di o di o di insomma mi ci siamo capiti se la persona giusta si vede quindi ecco cercare di proteggersi ha un senso fino a un certo punto prima o poi le cose devono uscire ma per il resto ragazzi io vi invito a inviare un messaggio whatsapp per diventare miei studenti o avere informazioni sui corsi vi invito ad andare sul sito internet e prenotare da soli o inviare una email per avere una sessione privata o un pacchetto con coaching o analisi karmica e noi ci vediamo alla prossima